Franco Genzale presenta la siringa di Mila Martinetti Ha molto incuriosito la notizia dell'arrivo in Irpinia segnatamente nel capoluogo della SOS, squadra operativa di supporto dei carabinieri, che nella organizzazione dell'arma è una particolare unità specializzata nelle azioni antiterrorismo. Dal momento che non sono stati segnalati i rischi di attentati nelle nostre zone, né imminenti né a medio termine, il pensiero collettivo è volato alla circostanza delle elezioni politiche di domenica. Insomma, l'unico timore di attentati al buonsenso comune sembra rappresentato dai candidati irpini al Parlamento. Grazie a tutti.